si sta sentendo male oh signore aiuto signore aiuto chiamate un dottore oh signore è lei un dottore? io? si sono un dottore che cosa possiamo fare? si però sono dottore in informatica cioè non lo so vabbè quindi cosa facciamo? cosa potete fare? fate una cosa spegnete e riaccendete i soldi funziona spegni e riaccendi trovi il pulsante e spegni e riaccendi capito?